Con la pittura ho avuto un vero e proprio incontro nel 2014, ho cominciato a prendere sempre le immagini di riferimento e copiarle. Con il passare del tempo poi mi sono reso conto di certi vantaggi che poteva portare all'approfondimento tecnico, captando con l'occhio quelli che sono dei vari linguaggi, vari immagini, vari forme d'arte, automaticamente tutto ci si riversa anche nel riferimento. Ho cercato di proporre le immagini di rossi e rimanere strani, un po' questo poi da giusto. L'idea è proprio di rivolutarla all'interno di un paesaggio pieno di segni che ricordano quello che è successo nella scrittura, nel segno della memoria, nel sé, la poesia, la vocale.